Dopo l'edizione speciale e diffusa del 2020, a Carmagnola, da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre, taglierà il traguardo dei 72 anni la Fiera Nazionale del Peperone, la più grande manifestazione italiana dedicata ad un singolo prodotto agricolo, che tornerà a riproporre 10 giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici, per tutti i sensi e per tutte le età. In un'area espositiva di oltre 10.000 metri quadrati, con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti a sedere e oltre 200 espositori, il comune di Carmagnola presenterà un cartellone con tante proposte a cavallo fra gusto, cultura e attualità. Nella presentazione ufficiale al castello Cavour di Santena, location scelta non a caso per sottolineare l'importanza del progetto del distretto del cibo del Chierese e del Carmagnolese, è stato illustrato il programma di degustazioni, workshop, show cooking, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, talk show e iniziative solidali, senza dimenticare l'area bimbi e la grande rassegna commerciale. Fra gli ospiti illustri della Fiera 2021, Arturo Brachetti, il conduttore radiofonico Tinto che ha condotto la conferenza stampa e Gino Sorbillo, artista della pizza napoletana di fama internazionale. Ivana Gaveglio, sindaca di Carmagnola, un'edizione quella del 2021 che segna la ripartenza della Fiera ma anche la ripartenza di una comunità cittadina. Sì, assolutamente sì e abbiamo scelto come messaggio di inaugurare, di presentare la conferenza stampa della Fiera in questo bellissimo complesso cavuriano, proprio perché il messaggio deve essere questo, Cavour ha amato l'Italia e noi qui respiriamo l'ispirazione per poter essere pronti ad offrire ai visitatori, ai cittadini davvero degli effetti speciali. Nascerà, sta nascendo il distretto del Cibo, del Chierese, del Carmagnolese, questo è un segnale, venire qua a presentare la Fiera del Peperone. Sì, è importante capire che i territori ormai sono aree vaste, Città Metropolitana ci ha definito zona omogenea 11 e abbiamo fatto squadra e stiamo costruendo e realizzando un percorso impegnativo, credo unico nel suo genere, che ci permette di essere sfidanti, abbiamo voglia di lavorare insieme tra comunità. Ecco, una città che accoglierà tanti visitatori come tutti gli anni, un invito a venire a Carmagnola perché si viene per il Peperone e poi si scopre un bel centro storico, una città che ha molte cose da raccontare. Sì, questo sì, i peperoni sono come sempre a disposizione di chi vorrà acquistarli anche lungo i bordi delle strade, ma all'interno della città ci sono davvero dei gioielli da scoprire e da assaporare. Nico Tuninetti, presidente dell'Associazione dei produttori peperoni di Carmagnola, che annata possiamo aspettarci nel 2021? Direi che i presupposti per una buona annata ci sono, perché c'è il calore, non ci sono stati degli eventi calamitosi, fino adesso speriamo continui e quindi quando c'è il caldo e l'acqua per irrigare i peperoni crescono in fretta, crescono bene, quindi penso che dovremmo avere dei prodotti, dei peperoni eccezionali.